... ... ... ... ... ... Grazie. 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 Ok, ragazzi. questo non è perciò ne faccio questo è bene e la torniamo con la massa 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 e la torniamo con la testina per questo motivo se te me la faccio il mio effetto cosa fa? mi hanno sbagliato me con voi io sento tutta la non è ho avuto ahah 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 Ah, non c'è posto il fisso, t'ha fatto. Ah, la tua revocavo. Ok, la tua fai è 600 euro. No, di più. Eh, 600 euro. Ah, la tua revocavo. Ah, la tua revocavo. Ah, la tua revocavo. va bene c'è quello che non fai un po' ma dipende che fa tutto bene, se è proprio speciale in una giornata da punta rimuovo quante carte possibili sul terreno ma gioco troppo e timpito ce ne faccio non c'è giusto, ma non c'è giusto no, non c'è giusto 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 ora aspetta 4-8 manca da perdere 3-2 1-6 per perdere sono a 6-4 non c'è giusto e directing è tutto grosso Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E' sempre colpa di pace. 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 l'attacco sono 800, 500, sono 200, 800 questa è una magia, mi piace lavorare all'interno hai le zone in mano, hai le zone in mano ho fatto un'altra e' un'altra cosa e' un'altra cosa è tutto il primo e' un'altra cosa è tutto strano se non è che c'era un'altra cosa e' un'altra cosa è un'altra cosa è una cosa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.